Allora ragazzi, prima di inizi il video voglio semplicemente avvisarvi che l'ho registrato prima che uscisse l'aggiornamento e quindi se vedete tutte le schermate e robe varie ancora vecchie, tra virgolette, ora sapete il motivo. E niente, detto questo, buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati con un nuovo episodio su Clash Royale nella serie delle Super Combo. Quest'oggi sono qui per presentarvi il leggendario Doma Golem. L'ho voluto chiamare così perché appunto le due carte che saranno presenti in tutti e tre i deck sono appunto il Domatore e il Golem. Come vedete in questo terzo deck, come vedete in questo secondo deck e come vedete in questo primo deck. Per un prossimo episodio di questa serie ovviamente lasciate un bel mi piace, cerchiamo di arrivare almeno a 4000 like, so che possiamo farcela. E direi di iniziare con il primo deck. Vi ricordo che dovete votare sotto con un commento uno di questi tre deck e consigliarmi altre combo per i prossimi episodi. E non scordatevi di lasciare un bel mi piace. Perfetto, partiamo col primo deck. Per votarlo ovviamente dovete scrivere sotto nei commenti il primo deck scrivendomi anche il perché. Potete votare anche il secondo deck e potete votare ovviamente anche il terzo deck scrivendomi sempre il perché. Perfetto raga, allora anche in questo secondo episodio vi presento il Domatore. Perché come avete visto anche nel primo episodio c'erano i Barbari Scelti e il Domatore. E' una fatalità, è una fatalità. Io già ho deciso di presentarvi questa combo appunto con il Golem e il Domatore. Nel prossimo episodio sicuramente non ci sarà il Domatore, se no sempre questo Domatore ha un pochettino scassato. Ora non so se andare subito di sfera infuocata o aspettare, ok? Così almeno prendiamo subito un po' di scheletri e abbiamo fatto bene. E così il Golem per conto suo si fa un po' di danni. Andiamo anche di qua col Domatore, così almeno lui si impanica immediatamente. Ramin è il nostro avversario, dovrebbe essere turco perché è in un clan turco. E infatti si impanica e utilizza la gelo per difendersi. E il Domatore continua comunque a colpirgli la torre. Sono veramente micidiali questi deck che hanno sia il Golem che qualche altra carta per attaccare. Perché veramente gli riparti dall'altra parte, noti proprio, non so, la gente che si impania. Che giustamente sprega tutto l'elisir per difendersi dal Golem. Lascia l'altro lato completamente scoperto e rimane fregato. Ora qui lui mi ha fatto una cosa bellissima, nel senso che ha usato le frecce in maniera ottima, 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 ottima. E ci sta, però pensavo mi facesse più danni. Pensavo mi facesse più danni. Ovviamente è meglio così per noi e vediamo un pochettino adesso come si va a difendere. Non utilizza il Mago, vedo. Questa volta non utilizza il Mago. Quel Mega Sgherro ci pensa l'Arciere. Gli aveva fatto un bel po' di danno. Quel Drago Infernale ci sta dando parecchio fastidio perché non permette al Golem di arrivare bello pulito a torre. E questo ovviamente è un problema. Noi abbiamo la scarica, quindi quell'orda di scheletri non è assolutamente un problema. Ma no, questo Drago Infernale lo lascio assolutamente. Andiamo di Bocciatore per quel Mago. Attenzione, c'è anche il Domatore. Lui c'è anche l'Argelo, tra l'altro. E infatti, mamma, l'ho chiamata. Lo sapevo che avrebbe utilizzato l'Argelo. Va bene, ha usato altri tre di Elisir. Quindi probabilmente ha usato un botto di Elisir. Quindi adesso si dovrebbe difendere con l'orda di scheletri. No, non si difende e mi attacca. Ha fatto una gran cosa. Ha fatto veramente una gran cosa questo tipo qui. Mi sei piaciuto, mi sei piaciuto. Come ti chiami, come hai detto che ti chiami? Ramin. Hai fatto una bella cosa, bravo. Mi sei piaciuto, mi sei piaciuto, ripeto. Quanto leva la sfera infuocata ogni volta mi scordo? 276. Per un colpo ci riusciamo. Lui è ovviamente, è ovviamente, è ovviamente. Io direi di utilizzare la sfera infuocata qui. No, me la potevo tenere, me la potevo tenere. Vabbè, lì ci ha pensato il megasgherro. Ci ha pensato il megasgherro. Comunque ci sarei andato di domatore. Non doveva riuscire a fermarmi teoricamente. Non sarebbe riuscito a fermarmi. Quindi l'abbiamo vinta con un po' di difficoltà qui nel finale. Però fondamentalmente abbiamo dominato. A parte qui ce la siamo un po' rischiata. Però fondamentalmente abbiamo dominato. Quindi il primo deck è andato alla grande. E neanche l'avevo mai provato prima d'ora. Anche questo secondo deck non l'ho mai provato prima d'ora. Ve lo dico, raga, non per giustificare sconfitte. Però giusto per dirvi quali ho provato e quali no. Quindi per dirvi che comunque già dalla prima volta sono abbastanza intuibili da utilizzare. Ovviamente però devi sapere utilizzare abbastanza bene il golem. Ora, non me la sento di partire col golem come prima. Andiamo di domatore. Infatti prima ho sbagliato tantissimo a partire col golem. Ci ho pensato dopo, raga. Io vi consiglio sempre di non partire immediatamente col golem perché è rischiosissimo. È veramente molto 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 rischioso. Però vabbè, ormai l'avevo fatto. Che facevo? Ok. Ok. Va bene. No, raga, questo qui c'è un deck che io odio tantissimo. Già ho capito lui che deck ha. Già ho capito lui che deck ha e lo odio tantissimo. Perché la tornata del boia li odio tantissimo. Ma tanto, ma proprio tanto, tanto, tanto. Sì, sì. Fai i pollicioni all'insù. Vediamo chi la sfanga. Ok, quindi abbiamo visto che lui ha i barba ai scelti. Però li ha già utilizzati. Quindi io direi che posso utilizzare abbastanza tranquillamente il golem qui. Vediamo se ha qualche altra truppa d'attacco. No. Ok. Teoricamente se non l'ha giocata adesso, teoricamente non dovrebbe averne. Di altre. Andiamo di boia, anche se così è abbastanza sprecato. Però non mi va di prendere it gratuite dal mini pecca, assolutamente. E va bene. Quindi abbiamo sprecato un po' di elisir. Mmm. Quel peccone lì non è che mi piace più di tanto. Che... No, allora non ho capito niente di che deck ha questo qui. Non ho veramente capito niente. Però io per non saper né leggere né scrivere vado di là. Se adesso lui di là c'è i barbari scelti e li usa, ok, per fortuna, eravamo proprio fregati se avesse utilizzato i barbari scelti di là. Ma siamo comunque fregati perché io non so assolutamente come fermare questi due bei tizi qui. Non so veramente come fermarli. Ora, ok, che cosa ogni volta l'ha tornato? Il peccone one shotta praticamente i barbari. One shotta qualsiasi cosa. Il peccone. Il mini pecca arriverà sicuramente a torre. Non so se il peccone ci arriva, no? Infatti. Perfetto. Vabbè, andiamo di sfera infuocata. Però, vabbè, la torre ce l'ha presa. Me la potevo risparmiare la sfera infuocata? Effettivamente me la potevo risparmiare. Tanto era scontato il fatto che arrivasse a torre. Che mi prendesse la torre più che altro. No, vabbè, mi ha trollato malissimo. Pensavo di averla presa di là. Va bene, ok. Andiamo di boia qui per gli arcieri. Perché quella torre l'ho presa, ragazzi. Quella torre l'ho presa. Perché poi con la sfera infuocata. Quindi direi di fare tipo una cosa del genere. Se non mi ha fatto bene, ragazzi. Perché adesso sfera infuocata... E ho fatto malissimo usare la sfera infuocata. Ho fatto di un male che neanche potete immaginare. Per il semplice fatto che la sfera infuocata me la dovevo tenere per di qua. Sono stato un pollo. Sono stato un pollo. E vabbè, più che altro, più che altro, più che altro, ragà, volevo ribaltare la situazione. Perché lui era in vantaggio, quindi volevo prendere la torre di là e poi giocarmela ai supplementari con la sua torre qui che era morte e usare nuovamente la palla di fuoco. Vabbè, anche se avessi utilizzato la palla di fuoco di là, lui mi ripartiva con i barba riscetti dall'altra parte ed era una fregatura in entrambi i casi. Va bene, va bene, va bene. Andiamo alla terza partita, ragazzi. Questo deck ci ha fatto tre partite, nove corone. E ho detto tutto. Ora, che ho detto così, spero di non averlo bruciato. Lo spero vivamente. Però non si sa mai. Intanto il nostro avversario è Stefano del clan Commodore Zone. Ci utilizza gli sgherri. Io vado subito di scarico. Così almeno gli facciamo anche un po' più di danno. Se adesso c'è il minatore siamo fregati. No, peggio ancora c'è la gang di Goblin che a me sta tanto sulle scatole. Sembra essere davvero una buona carta, però a me non piace molto utilizzarla. Però quando ce l'ho contro rompe parecchio. Però noi teoricamente con la scarica non dovremmo soffrirla troppo. Quindi noi la scarica da adesso in poi sappiamo che lui ha lorda, e sì lorda, la gang di Goblin. Quindi noi la scarica la usiamo solo sulla gang di Goblin. Perfetto, buona a sapersi. Gioca i barbari scelti con gli spiglitelli del fuoco. Ci sta un sacco come strategia. Mi farà un bel po' di danno. Però io direi di tenermi l'elisir non mi va a dispregarlo. Perché noi gli ripartiamo col Golem. Non è assolutamente un problema. Va bene, va bene, va bene. Andiamo di Golem. Vediamo Stefano come risponde. Teoricamente non dovrebbe far nulla perché ha utilizzato un sacco di elisir. Infatti ha giocato giusto gli sgherri e il Dommatore. Che ci sta? Mi prenderà la torre quasi sicuramente, ragazzi. Quasi sicuramente, ma a me non interessa. Perché noi adesso gli ripartiamo col Golem. E attenzione al Dommatore dall'altra parte, ragazzi. Ora vi faccio vedere una cosa divertente. A seconda di come si difende qui col Golem. Vediamo come si difende contro il Golem. Ok. Vediamo di là adesso che cosa mi racconta. Ha usato i barbari scelti qui. Quindi di là il Dommatore è sicuro al 100% che sta da solo. Perché non utilizzerà nulla. Ha utilizzato ora la gang di Goblin. Gliela prendiamo con la scarica. E vedete che comunque più o meno ci siamo messi. Praticamente non so se siamo in vantaggio. Perché comunque... No, se adesso prendiamo quella torre siamo in netto vantaggio. Perfetto, ragazzi. Ve l'ho detto. Tranquilli. Con questo deck bisogna stare tranquilli fino all'ultimo. Però adesso non so se... No, andiamo da quest'altra parte. Secondo me lui non rischia le tre corone. E infatti non rischia le tre corone. Cosa che non faremo nemmeno noi, ragazzi. Ve lo dico già. Non rischieremo le tre corone. Per la prima volta con questo deck non me la rischio le tre corone. Perché sto Stefano è bravo. Però prima... Giustamente per bloccarmi di brutto il Golem di là. Ci ha preso un pochettino le pizze. Vediamo un po' che cosa fa. Ha giocato lì... Lo stregone elettrico. Andiamo di sfera infocata. Perfetto. Qui ha utilizzato la gang di Goblin. Ha utilizzato qui i barbari scelti. Li andiamo ad utilizzare pure noi. Vabbè, quella torre dovrebbe essere... Non presa. Però dopo noi con la sfera di fuoco la prendiamo. Dai, 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 Golemita. Fai qualcosa? Dai, Golemita. Fai qualcosa? Niente? Non ha fatto niente quel Golemita. E questa cosa mi dispiace abbastanza. Però vabbè. È presa. È presa. È presa. È presa. È presa. È presa. Se lui adesso si difende... Vabbè. No, non ce la può fare. Andiamo di Golem. Così qualsiasi cosa arriva va contro il Golem. E abbiamo vinto, ragà. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Due vittorie su tre. Come il primo episodio, tra l'altro. Mi sembra che anche il primo episodio è andato così. Non lo so, ragazzi. Vabbè, abbiamo confermato che almeno due vittorie le facciamo. Comunque, ragà. Non ha leggendaria questo deck. Quindi, più o meno, se avete queste carte, lo potete fare tranquillamente il deck. Io questo qui ve lo consiglio fortemente. Perché l'ho inventato io così a cavolo. Perché a me piace un sacco la strategia Golem-Barbari scelti. E ho pensato di metterci anche il domatore per essere offensivi al massimo. E mi sta piacendo un casino, ragazzi. Ci ho fatto quattro partite. Le ho vinte tutte. Ho fatto undici corone in quattro partite. Non dico che sia record, ma comunque considerando che sto sopra le 3800 coppe, quasi. Perché comunque un po' di coppe le abbiamo perse per colpa degli altri deck più che altro. E niente, ragà. Allora, che dire. Vi ricordo i 4000 like per un prossimo episodio. Consigliatemi altre combo sotto nei commenti. E soprattutto, scrivetemi quali tra i tre deck avete preferito in questo video. E anche il perché. Ti iscriviti al canale se non questo è fatto. Per me è tutto. E noi ci troviamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao, ragà. Ciao, ragà.